Storie di miniere e di emigranti 8 agosto, Bologna ricorda la strage di Marcinelle Alle 11 commemorazione ufficiale nel giardino vittime di Marcinelle 11.45 in piazza Spadolini 3 Presentazione del libro di Sonia Salsi Storie dell'immigrazione italiana in Belgio Il caso dell'Imburgo Alle 21 in piazza Spadolini Si terrà lo spettacolo Sogni e speranze dell'Italia che partiva Con Simona Sagone, Salvatore Pano e Mirko Mungari Per info, associazione culturale Yucali Info piacciola yucali.it I made a killin' in the binies I still made millions come a bust While I'm past a rock checker I'm past a rock checker I'm past a rock checker